E' 20 serie di 66 film di capito 2, si preparino Nicola Davide Ores Sosa Grazie Dai Dai Aceto si presenta al tavolo del patano numero 1 senza le protezioni Dai bravo Aceto si presenta al tavolo del patano numero 1 Cadetti 76 film di capito 2 Picola Davide tappeto 2 Picola Davide Al tavolo del patano numero 1 2 minuti ancora 2 minuti ancora Dai che è finita Ci preparino al tavolo del patano numero 1 Cappeto 2 Cappeto 2 Si presentino di Tola Davide Cappeto 2 Si presentino di Tola Davide Cappeto 2 Dai Gli ultimi 48 secondi Brando Drami 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 bravo vai sei knife bra vai